La vita è un libro aperto che ha le sue iniziali e finali, dove tu spogli pagina dopo pagina, che ti dona novità e conoscenza del tuo leggere. Acquisisci culture e civiltà che ti guidano come tu devi osare nella vita per vivere, condividendo con gli altri, con il fine di operare segni di beni uniti all'amore e senti di ogni male che ti prive di venire a lusso. La fine del libro termina con la firma dell'autore. In questi versi si sentono ciò che si vive nei paesi nei giorni di festa, dove si riavvicinano tutti i paesani e i compaesani per festeggiare i santi venerati in ogni paese dove si va a fare le vacanze. Ognuno ha le sue tradizioni e costumi per rendere più armoniosa la festa, sia a livello civile che quello religioso. Paesi in festa. Gli paesi si preparano e si mettono in festa, sia religiosi che civili, per i santi nominati e ricordati di paesi venerati, sia di montagna che di marina, zampognari, pepitari, banda, con complessi sonari, con parchi, luminali, addobbari e fuochi d'artificio sparare che fanno e donano armonia a tutte le vie degli paesi. Questi sono le fieste che vengono una volta all'anno, che richiamano vicini e lontani i paesani per mupponno tutti assieme festeggiare. Che bella cosa esiste ancora c'ha le paesi che ti incontri e ti vedi con i parenti e amici sia vicini e lontani che si ricordano della festa mantugata che ti vedi tutti assieme a salutare e parlare di battaglie passate e presenti che vengono e fanno storia agli paesi. Dove ne scimbe ne crescimbe e poi mi gramma per un pezzo di panni e dei denari peggiare peggiare avanti c'è la vita giorno dopo giorno per poter noi migliorare. Grazie. 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 Grazie.